La posta in palio è alta, Montesilvano e Renato Curiangolana si sfidano nel derby pescarese per centrare un successo che sarebbe pesantissimo. Padroni di casa che confermano Marrone e Petito in avanti con Maloku e Tassone ai lati, ospiti di Mister Rachini senza lo squalificato milizia ma con Farindolini e Ciarcelluti a supporto di Miani. Fischia Ieucumere dell'Aquila. Gara subito viva e ricca di spunti, Ciarcelluti protegge il pallone con un tiro cross, crea un brivido lungo la schiena dei difensori di casa. Risposta verde oro affidata all'asse Petito Maloku con l'ex di turno che manda a lato. Ci vogliono i riflessi di Ubertini per impedire ad Angelozzi di sbloccare la partita. Buono il botta e risposta tra i due. Farindolini disegna un pallone geniale per Miani che conclude fuori di pochissimo. Sul versante opposto da un esterno all'altro Maloku per Tassone che col sinistro calcia centrale sciupando una grossa palla gol. Primo tempo giocato a ritmi forsennati, conclusione di Bomber Miani parata da Ubertini e salvataggio provvidenziale di Leonardo Maloku sull'esperto attaccante dell'angolana. Ma è il Montesilvano a protestare quando in un'azione di rimessa Marcedule e Fuschi vanno a contatto. Lascia giocare il direttore di gara. Nella ripresa Guizzo di Tassone tra i migliori dei suoi stoccata salvata da Fuschi nel posto giusto al momento giusto. Grande uscita di Marco Tullio che arpiona in maniera plastica un pallone crossato da Maiorani prima di finire a Tassone. L'angolana vuole i tre punti e passa in vantaggio. Angolo di Farindolini buca la difesa di casa e Pastafiglia deve solo appoggiare in rete lo 0-1 di giornata con l'esultanza sua e dei suoi compagni che vedono vicino un prestigioso straguardo. Il Montesilvano vende cara la pelle da un piazzato di Maiorani girata fantastica di Petito che toglie le castagne dal fuoco pareggiando immediatamente la partita. Dall'in poi non succederà più nulla. Un punto a testa in un derby ricco di emozioni e ben giocato da entrambe le squadre. Assolutamente sì una gran bella partita fra due squadre che se la sono giocata a viso aperto. Loro sono venuti qui per fare la partita e per cercare i tre punti ma come lo sapevo conoscendo il grande mister Paolo e noi abbiamo risposto botta su botta. Un 1-1 pari che se vado a vedere le occasioni ci può stare tutto perché a noi Ubertini ha fatto una grande parata. Poi nell'area di Lando domenicalmente succede sempre qualcosa che spero facciate rivedere in modo che prima o poi qualcuno se ne renderà conto. Fermo restando che ripeto io sono tranquillissimi, i ragazzi sono tranquilli, hanno fatto una grande partita, una grande prestazione contro una grande squadra. Ma fare punti qua non è mai facile contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e contro una squadra forte secondo me perché ha dei 5-6 giocatori di categoria che fanno anche la differenza. Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, siamo passati in vantaggio a 15 minuti alla fine e pensavo di poterla portare a casa. Non ci siamo riusciti però diciamo che è stato un buon punto. È un pareggio che dà fiducia secondo lei? I punti danno sempre fiducia perché noi comunque sono 5 partite che facciamo risultato e quindi dà fiducia per il futuro. Sono un po' amareggiato per come poi è stata gestita la partita anche dalla terna arbitrale perché sinceramente ho capito una cosa che in queste categorie più si protesta e più si hanno le cose a favore in mezzo al campo quindi è una cosa che va avanti da parecchio tempo. Io non mi sono mai lamentato, gli altri si lamentano puntualmente tutte le domeniche e poi puntualmente quando ci sono questo tipo di partita gli si viene fischiato tutto a favore.